L'Italia sia il paese più attendibile, coerente e credibile come sponda di dialogo degli Stati Uniti in Europa. Il sogno americano. La capsule gradinata è l'opposto, l'estremità opposta sulle gradinate del Capidoglio che dà lo verso l'Italia, il 20 gennaio. E' un posto a Washington, andiamo per il globo. La scalinata di Rocchi. Sì, lì a Fianadezzi. Sì, a Fianadezzi. A Fianadezzi.